Maestro, carissimo, buonasera, 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 mamma mia, allora la situazione è quella che è, tutti si preoccupano, povero Gabbiano, ma povero Battista con tre matrimoni non volemo dire, povero Battista, st'ampicciato con le sordi, voi due non mi muovete, mo vengono lì, vabbè, andate via o famo un trio? Non lo so, che dobbiamo fare? Noi ti volevamo far fare un applauso, direttamente da Roma, Maurizio Battista, va bene, noi ce la andiamo, arrivederci, arrivederci, tre matrimoni, se non applaudite andiamo veloci, se no stiamo qui tutta la sera, tre matrimoni, devo mettere un servizio, questa mia esperienza che è stata dura, dura, e la metto a disposizione di voi due, fidanzati? Sì, fidanzati, già, stai sbiancando un po', vedo, non vi più a ridere sta storia, da quanti anni? Cinque, cinque anni, c'è la garanzia, come sulla vernice della macchina, va benissimo, allora facciamo il servizio a sto ragazzo, un giorno lei ti dirà che si chiama? Maddalena, Maddalena, per nome, ma tutto il resto è da vedere poi, ti dirà, tu ti chiami? Salvatore, ma che è, un presepe sto po', ma che è sto po', fammi una cosa normale, ti dirà, non dite, pensa che sto a scherzare, ti dirà, lo faccio a te, dell'altro non mi frega niente, manco da casa, ti devo salvare, ti dirà, a Salvatore, dovremmo far, come dite voi, come diceva Giustiniani, un sposalizio, sì, perché a Roma c'è il matrimonio, i miei sono durati più la cerimonia che tutto il matrimonio, dico la verità, lei ti dirà, Salvatore, Salvatore, ci dobbiamo sposare, lui fa, e chi l'ha detto? Mi madre, tua madre, esci da questo corpo perché sotto la madre c'è lei, aspetta, aspetta, tu vai a parlare con tuo padre, che si chiama? Filomena, tu padre, Filomena, il padre, la mia strana, e la madre, Mario, vabbè poi sto pezzo lo tagliamo, dalla bo, poi sto pezzo lo tagliamo, allora, gli dico papà, mi servono i soldi, tu padre, Antonio, decidete i nomi prima di fare questo pezzo, ora sta a bruciare il pezzo, vabbè dice papà, mi servono i soldi, 50 milioni, parliamo di lire, tu padre fa, chi ci potrebbe darsi i soldi? dice no, papà, i soldi che sembrano, a me li devi dare a te, il padre fa, a me chi mi dai i soldi? E chi convincerà tu padre a darti i soldi? tua madre, da dietro, tu non avevi, ti fa, dai i soldi, la tua ragazza, tu vai, vabbè, quanto le serve? 50 milioni, dice come gli spendi? Ha deciso tutto Maddalena, perché tutto, dico, da questo momento in poi, al matrimonio ci può anche non andare, ti ha invitato qualcuno a te al matrimonio? lei, io vorrei fare una simulazione senza matrimonio, lo fanno uguale signora, perché il prezzo, dice papà spendiamo 10 milioni per viaggio di nozze, dove andate? facciamo Messico e Guatemala, e il padre fa, fa pure Abruzzo e Molise, è già che sei partito, fa 20 milioni per pranzo, dice solo la bruschetta, e poi qui torna il gabbiano, io mi sono sposato nell'81-28 giugno, lungo Tevere, superotta, era pellico, non adesso tutto digitale, io correvo, dietro è mia moglie, e il gabbiano faceva, era, ti amo, ti, e il gabbiano, ahhh, e il gabbiano ha già capito il dramma, e poi arrivi alla macchina, si è sposata signora lei? ero, no ero, tutti eravamo signora, non è che erano, non faccia la fanatica, io il suo marito l'ho visto, eh, la domiziana faceva così, era allegrissimo, no perché poi, aspetta, aspetta, no, ci abbiamo poco tempo, dobbiamo, è lunga la sera, perché poi quando vuoi donne lasciare, cioè, mi ha lasciato, lui un'altra come me, non la trova, ma manca la cerca un'altra come te, c'era a te, non mi meritava, pensa che l'ha fatto di mare, sto porromo, chiudiamo qua, andiamo un po' veloci il tempo, non è tanto, comincia, 10 milioni per filmina e foto, cioè perché fa per ricordo, tuo padre fa, ma salva tu, ma che pensi che qua a giornata, ti ascolta, quella è l'ultima felicità della vita tua, l'album di foto, quello di pelle, le prime 50 foto, so, senti a me, tre album, ciò, so, le cose, leggo la madre, leggo la nonna, leggo una zia morta ma ci teneva stacce, di te c'è il fotocopio della patente sotto e il brutto momento è quando arriva, e poi tra un po' vi lascio perché il tempo è quello, la partecipazione, la parte, arriva, tu prendi la partecipazione, tuo cugnato, va a casa, la tua sorella fa, guarda è arrivata la partecipazione di Maddalena, dice perché sei sposa, ti, sei sposa Maddalena, e che fanno, che ci mettiamo, che ci mettiamo di vestito, è un problema loro, tu c'hai sempre quella vana di flanella, hai visto quello che, fuori la chiesa se uno vende i rose, e la domanda è che gli diamo, beh, gli facciamo un regalo, i piatti, no, tocca dargli i sordi, perché ormai, come dite voi, danni i sordi, qualcosa di sordi, che gli diamo, damogli, lui fa 500 euro, lei fa, prego, a mia sorella 500 euro, damogli 600 euro, a mia sorella, 600 euro, ma se si paga 200 euro a persona a pranzo, e siamo in quattro, la matematica, non è un'opinione, e gli diamo 600, lui fa, vabbè, io non pranzo, rimango in macchina, aspetto fuori, e alla fine della fiera, ricordati sempre, io dico questa cosa al primo matrimonio, se prendete come battuta, vi apprezzo, però non è una battuta, nel 25 anni fa, ufficio separazione e divorzi, tribunale di Roma, via girocese 54, tutti a sede, così in una tristezza, tua moglie, lei con l'avvocato, io con l'avvocato, ti guarda male, ti fa, guarda che ha fatto, come se l'avessi fatto te, no? E disse questa frase, che chiude questo pezzo, e ti deve fare riflette, magari vi lasciate, quando uscite da qua, voi vi lasciate, già lo so, però il mio servizio l'ho fatto, e mi disse, non sto scherzando, con sta fascia osterra, ah, speriamo che il giudice mi dà un milione al mese, dico speriamo, se è tutto da lui, è buono, no? Io non ce l'ho, io non do sordi a nessuno.